Questi massaggi qui non si fanno. Non così, girati dall'altra parte. Che è, un giochetto nuovo? Perché mi hai fatto mettere i cucini? Perché, mio caro, ti faccio un bel massaggio. Allora tu sei una massaggiatrice. C'è stava un amico mio che rispondeva sempre all'annuncio. E si è trovava bene. Guarda che però io sono esigente, eh. No, date da fare, su. Oio! Ai! Amato! Usa via brutta carogna. Meno! Che qui sono la lupi! Eh, bossino, ammazate. Aciccio, d'arie che piava la carrozza. Sbitti! Arie! Addosso, ragazzi! No, no, no. No, 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 no. No, no, no.